3, 2, 1, via! Ho preso la patata! Allora facciamo una bella cosa, facciamo un bel gioco spiaggia, bello di... Oh, il logo! No, 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 non ci serve! Ci devono prendere l'abbronzatura giustamente! È bellissimo, cioè si sono volatilizzate tutte e tre! Io voglio stare sulla mente con te, perché quando tu stivi con me, buracchellate chiamavano re! Ho preso la patata! Grande! Bravissima! Eccolo! Grande! Questa è stata una grande performance! Il mio marito è un grande atleta! E ha perforato la patata! Complimenti! È bravo! Ah, in qualsiasi momento! Bene! A disposizione! Complimenti, complimenti! Lui mi completa e io, e lui completamente! Bene! A disposizione! Io sono proprio un professionista! Io sono proprio un professionista! Mi parlo! Mi parlo! Mi parlo! Mi parlo! E' ormai uno si conviene per rilassarci! Dico le bocce per un'altra cosa! Eh sì sì sì! Mi hai capito! Allora ti posso confermare! Ti posso confermare! Alle ore 16! Alle ore 16 al bar! Facciamo il tonno di scala 40! E il bar dove sarebbe? Il bar quello là sulla piscina! Dove sta la piscina? Questa la piscina! La piscina! Sì! La piscina nel villaggio! Ah no! Qua sta! Sì! Sì! Il bar praticamente voi proprio vicino alla piscina! Sulla sinistra trovate il bar! Ma quale bar? Come si chiama sto bar? Bar del villaggio praticamente! Si chiama solo bar! Non ce l'hanno dove? Dove sta la piscina? Dove sta la piscina? Dove saranno gli ombrelloni della piscina? Proprio la zona bar! Oppure alle 18 facciamo anche il torneo di Frecette sotto la piscina! Eh! Dove sta la piscina? È molto più facile! La piscina! Ma la piscina è qua! Sì! Vicino alla direzione! Proprio vicino alla direzione del villaggio! Il villaggio sarebbe questo qua! Sì! 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 Questo è il villaggio! È questo qua il villaggio sì! Ok! Ecco si scuola! Sì! Bravissimo! Bravissimo! Allora ci vediamo oggi! Mi raccomando io ti ho segnato! Ok! Ciao Erasmo! Ciao Erasmo! Buona giornata! Buona abbronzatura! Ciao! Ciao! Ogni tua emozione quando l'estate esplode e il mondo vi sorride! Hollywood sarà il tempo del tuo divertimento! Tra spiaggia, mare e sole la nostra animazione è con te! Grazie! Grazie! Grazie!